A seguito dell'atto della giunta del comune di Lecco che stabilisce come limite per eventi e musica dal vivo, le 22, una lettera da parte delle associazioni lecchesi che si occupano di musica e di eventi. Noi siamo con l'assessore Cattaneo che si è direttamente occupato della redazione di questo atto. Lei ha letto la lettera, vuole rispondere? Nell'immediato la giunta ha voluto intervenire nel mese dicembre, ormai qualche settimana fa, per fermare alcuni gesti di maleducazione che ci sono stati che sono andati a discapito poi dei residenti che soprattutto nelle vie del centro si sono ritrovati accerchiati da situazioni in cui era scappata di mano la gestione del volume dei DJ set. Quindi quello era il nostro scopo e così siamo intervenuti. Ora la possibilità di continuare a fare attività culturali e di produzione artistica c'è ancora nei locali deputati a farlo. Al chiuso non è cambiato nulla. All'aperto, quindi soprattutto in vista dei mesi estivi, l'impegno è quello di agire con il nuovo regolamento all'interno di un confronto anche con le associazioni che chiarisca dove si possono fare gli eventi, fino a che livello di rumorosità e in quali momenti dell'anno. Questo è più interessante anche dal punto di vista dell'attrattività generale della città sulla musica, sul teatro e su tutte le varie forme artistiche.